Veronica, ma come va con Daniel? Tutto bene? Bene, perché? Ah, l'ho visto con una ragazza, poi faccio vado scemo con le altre Davvero? Eh, con una in particolare se l'ha baciata a stampo, l'accarezzava No, non ci credo Te l'ho dicata amica, credimi Anche se fosse tre sedere extra quattro Grazie a tutti